Buonasera. Sono un poeta. Ah, allora sì. Sono venuto a leggere alcune delle mie migliori poesie. Qui da noi? Sì. Come mai proprio qui da noi? Scusi. A qualcuno doveva andare a leggere. E certo, e ha pensato bene di venire da noi, vero? Prego, prego, si accomodi. Lei è un poeta maledetto? No. Vengo maledetto dopo aver letto le liriche. Ah, ecco, ho capito. Ben, il suo nome? Minopausa. Minopausa. Caspita. Deve dire le poesie? Sì. Certo. Facci come se fosse nello studio suo, guardi, stia tranquillo. Per piacere. Sì, scusi se ho respirato. La prima composizione che voglio farvi ascoltare ha ridotto il pessimismo cosmico leopardiano a mero umorismo. Urca. Vado a leggere. Vai, davanti. Mi piace dire. La poesia si intitola La gioia immensa che si prova nel riflettere. Tutto che non c'è... Eh? Per piacere. Scusi, scusi. Chi prima, chi dopo, tutti dobbiamo morire. Sante parole, guardi. Veramente dei versi intensi, suoi. Per oggi vorrei, vorrei congetarmi da voi. Diceva? Per oggi, per oggi vorrei congetarmi da voi. Come si vorrebbe congetare? Scusate un attimo, ragazzi, scusate. Come si vorrebbe congetare da noi? È scemo. Se non è scemo. Sono una delle mie ultime composizioni. Da titolo? Liriche. Ah, liriche. Come si intitola l'ultima composizione? Breve incontro. Se andiamo. Vado? Vadi, vadi. Ti conobbi al mare. Ma poi... Affogasti. Maronna.